Non solo 25 novembre per dire no alla violenza sulle donne, il comune di Pescara con l'Associazione Ananche mette in campo iniziative per le donne maltrattate ma anche per il recupero degli uomini autori di violenza. C'è un hashtag 365 giorni no alla violenza donne. L'assessore Adelchi Sulpizio nel corso della conferenza stampa in comune ha ribadito come con l'Associazione Ananche si attueranno iniziative per tutelare le donne maltrattate tutto l'anno. Inoltre con l'apertura del CAM si pone l'attenzione anche al recupero degli uomini maltrattanti che si rivolgono al centro. Oggi l'Associazione Ananche intanto ha reso noti i dati dell'area pescarese che però riflettono l'andamento regionale. Nel periodo Covid c'è stato un aumento delle richieste di aiuto al centro. L'età è varia, ci sono minorenni che si presentano con i genitori anche se la maggior parte di esse ha tra i 40 e i 50 anni. Per il 40% queste donne non lavorano e accanto alla violenza fisica e psicologica si aggiunge anche quella economica. Il presidente Bozza ha poi precisato come il Tribunale di Pescara aveva già a sua volta aperto uno sportello. Sul pizio evidenzia proprio come per contrastare la violenza sulle donne occorre una sinergia tra le varie parti. Una rete integrata partendo dalle scuole tanto che anche all'alberghiero De Cecco è stato aperto uno sportello antiviolenza. Ci sarà da oggi una serie di iniziative grazie a Comuni Ananche che culminerà il 4 dicembre con l'evento Io non ci sto più. Puntata speciale di Interno 8 sulla nostra emittente dall'auditorium Cerulli di Pescara. È possibile contattare i vari centri su siti e le pagine Facebook dedicate. Noi con questo annunciamo questo progetto 365 giorni no alla violenza sulle donne con il quale rappresentiamo tutte queste attività che noi andremo a fare come Comune di Pescara con il nostro braccio operativo che è rappresentato dal centro antiviolenza di Ananche. Noi qui a Pescara siamo, su questo siamo all'avanguardia anche da diversi anni. Noi quest'anno abbiamo anche lanciato il progetto del CAM con il quale spostiamo l'attenzione. Non soltanto poniamo la nostra attenzione sulla donna vittima di violenza ma in questo contesto anche nei confronti dell'uomo maltrattante. Andiamo a capire perché l'uomo maltratta. Qual è la situazione e soprattutto iniziamo anche lì un progetto, un progetto di recupero. La presidente dell'associazione Ananche, Doriana Gagliardone, parla di un aumento di richieste di aiuto da parte delle donne del più 4% inoltre. Altro dato interessante è che noi al centro stanno arrivando rispetto agli altri dati magari del nazionale così molte più donne che hanno già denunciato. Quindi significa che comunque queste donne stanno acquistando più fiducia nelle istituzioni, nelle forze dell'ordine in questo caso e anche gli effetti del codice rosso, l'introduzione del codice rosso ha fatto sì che la denuncia venga subito raccolta e poi segue l'iter giudiziario.